ma bentornati o benvenuti se siete nuovi in questo canale in quel caso vi invito a iscrivervi oggi parliamo di dante e non perché questo canale si è trasformato improvvisamente in un canale in cui si parla di letteratura italiana ma parliamo di dante il nuovo film di pupi avati mamma mia ragazzi che delusione coccente credo sia uno dei film forse il film più brutto che io abbia visto quest'anno tra i film in sala non in generale perché poi ovviamente ho visto tipo 365 giorni adesso sotto il sole di amalfi però tra quelli usciti in sala questo è il peggiore di tutti credo sono calcolate che sono tornato dal cinema tipo un'ora fa e sono ancora estremamente deluso uno perché questo film aveva un cast che mi piaceva tantissimo due perché pupi avati alla regia solitamente non delude e invece non so da dove iniziare credetemi non so davvero da dove iniziare io credo che questo sia un film adatto per la televisione e non per essere portato in sala è un film secondo me che è stato concepito per essere è tipo uno il famoso sceneggiato che si vede in televisione tipo solitamente diviso in due parti nonostante la durata sia breve perché dura circa un'ora e mezzo è un film che non funziona non decolla mai estremamente piatto estremamente lento e sapete che a me i film lenti in realtà piacciono ma questo è inutilmente lento da un sacco di cose per scontate ci sono un sacco di buchi di trama ad esempio se uno non ha un gran background di chi era dante della sua vita ok va bene voi potesse pensare ignoranza di quella persona però in realtà anche no perché se io vado al cinema e vado a vedermi una storia tu che me la racconti mi devi mettere in grado qualsiasi sia il mio livello di conoscenza e di cultura di capire la storia che mi stai raccontando e invece qui ci sono un sacco di buchi di trama molte cose non venivano spiegate molti personaggi spuntavano e dicevi e chi è questo cioè è un personaggio vero è inventato è esistito vero come si chi è chi è nel non si sa castellitto che io amo qui boh faceva boccaccio e viene detto solo all'inizio della storia che se tu per caso vabbè che non devi essere distratto quando va al cinema ma se per un attimo ti distraevi e quindi ti perdevi il passaggio che lo chiamavano boccaccio per tutto il resto del film non viene chiamato mai quindi o sai che boccaccio era un grande amante della poesia di dante quindi ci arrivavi o ma se non conosci boccaccio lui poteva essere benissimo peppe perché non è presentato poi poi tanto tu ti vai a vedere un film su dante ti aspetti che dante sia protagonista che soprattutto la poesia sia protagonista invece no cioè dante poeta lo vediamo pochissimo e tu dici vabbè si saranno voluti concentrare sul personaggio cioè sulla storia neanche e lui ogni tanto recita dei versi di poesie che in realtà sembra pazzo perché a che parla normale a che comincia a dire tanto gentile tanto onesta pare cioè tu dici ma che perché cioè beatrice la donna angelo che qua sembra satana cioè e carlotta gamba attrice che io amo e veramente lei credo sia l'unico motivo valido per cui andare a vedere questo film perché spacca lo schermo è bravissima ma inquietante e grottesca a un certo punto non sto qui a spoilerarvi perché ammesso che ci sia da spoilerare perché io che sono andata del film non ho ancora capito alcune cose però va bene cioè qui a un certo punto si sposa e fa una danza con le sorelle con le quattro sorelle tre sorelle o quattro sorelle non mi ricordo e fa questa danza che è presentata con un ralenti anche fatto piuttosto male e macabra è una danza veramente macabra in cui si passano questo bambolotto di ceramica abbastanza inquietante che poi è un po una chiave di questo film questo bambolo comunque la donna angelo niente ma la cosa che mi ha proprio fatto uscire fuori di testa il film è pieno di primissimi piani pieno non ha mai non c'è mai respiro quindi intanto è ambientato tra firenze e ravenna e non cioè poteva firenze poteva essere qualsiasi altra città medevale perché hanno pensato bene di non inserire neanche un elemento che rendesse riconoscibile la città di firenze però vabbè magari non hanno potuto girare sicuramente non avranno girato a firenze però non lo so quando vai a ricostruire la scenografia mettimi un qualcosa che mi faccia capire siamo lì no ok le strutture medievale firenze ancora medievale va bene però boh vabbè ok quindi il film è pieno di primi e primissimi piani e in una scena anche abbastanza cruciale e importante del film hanno pensato bene di fare questo primissimo piano di dante che c'è all'attore hanno ricostruito ovviamente la famosa gobetta del naso di dante e si vede la ricostruzione cioè si vede l'attaccatura finta al cui su sul naso insomma si vede l'attaccatura finta ma si vede proprio cioè si vede che mi fa impazzire capito come fai non accorgi io capisco e va bene una scena un campo lungo non te ne sei accorto ma è un primissimo piano dalla camera poi non è che lo vede solo una persona lo vede l'operatore camera lo vede il direttore della fotografia lo vede il regista queste scene vengono riviste dopo appena si dice stop viene rivista la scena immediatamente girata dico come che nessuno si è accorto che l'attaccatura di questo naso finto del personaggio di dante era così cioè no no poi titoli di testa e titoli di coda fatti su immagine fissa che ok io quando ho visto all'inizio ho detto vabbè questi titoli di testa fatti così ci stanno perché rievocano un po' quella sensazione di antico però anche alla fine questa presentazione dei personaggi un po' era proprio se qualcuno di voi l'ha visto per favore fatemelo sapere nei commenti se avete avuto la stessa sensazione sembrava veramente un film fatto per la televisione con i tempi e il ritmo di un film ideato per la televisione e con una costruzione con una narrazione ideate per la televisione non aveva nessun elemento di intrattenimento soprattutto nessun elemento tipico da immersione cinematografica l'audio non era da immersione cinematografica la fotografia non era da immersione cinematografica la narrazione continua a dire che era inutilmente lenta i personaggi non erano né approfonditi né caratterizzati alla fine si vede dante vecchio e lo devi capire che dante vecchio ci sono un sacco di salti temporali buchi di trama la divina commedia non si sa neanche che cosa sia in questo non lo so il finale può essere un po' suggestivo non lo so io non salvo veramente niente salvo forse i costumi che erano molto accurati e salvo alcune scelte registiche ma ma neanche tanto non lo so non lo so veramente una super delusione veramente io avevo un sacco di aspettative per questo film perché il trailer è montato veramente bene il cast è spettacolare e la regia pupia vati non è l'ultimo degli scemi e invece no è veramente mi sente è un film che vi sconsiglio di andare a guardare al cinema aspettate che esca in qualche piattaforma streaming e vedetevelo tipo non lo so uscirà su prime su netflix su rai play non lo so comunque aspettate secondo me perché un film che non vale la pena andare a vedere al cinema soprattutto in questo periodo che sta uscendo tantissima bella roba questo è un film che si può tranquillamente evitare e niente io ho registrato questa solitamente faccio le recensioni tipo con la luce del giorno adesso è sera ma volevo sfogare con voi tutta la mia frustrazione tutta la mia delusione per un film che veramente mi ha mi ha deluso mi ha deluso e di cui non riesco a salvare niente ci sto provando sto ragionando ma niente non salvo veramente niente eppure noioso da me poche volte al cinema mi capita di guardare per esempio l'orario per più o meno capire quanto ancora manca di film qui l'ho fatto due tre volte perché perché non vedevo l'ora che finisse tanto che non mi stava intrattenendo e quindi quando succede questa cosa è un po brutto l'ho detto nelle mie storie instagram uscito dalla sala è una delle sensazioni più brutte che io provo quando esco dalla sala deluso soprattutto perché alcune volte esco deluso ma dico vabbè però c'era quel dettaglio qui invece non non riesco a salvare nulla di nulla di questo film a parte carlo ecco forse l'unica cosa che salvo è carlotta gamba beatrice che non delude mai lei è bravissima proprio bravissima questa attrice per il resto vabbè non lo so se l'avete visto e magari a quelli di voi è piaciuto fatemi sapere dove cosa non ho capito perché vi è piaciuto se invece non l'avete visto se lo volete andare a vedere andate a vedere io non mi sento questa volta di consigliarvi la visione vi ringrazio come sempre per aver avuto la voglia e la pazienza di guardare anche questo video vi invito come sempre a iscrivervi al canale attivare la campanella per non perdervi nessun contenuto e vi invito anche a lasciare un like al video perché per me è davvero importante questo canale sta crescendo mi piace tantissimo mi piace che siamo una community attiva mi piace anche quando mi contattate su instagram per parlare dei film infatti come sempre vi invito a lasciare un commento qua sotto però commenti senza spoiler perché non è giusto spoilerare invece se vogliamo appunto come ho detto poco fa discuterne tranquillamente potete seguirmi su instagram e contattarmi in direct e lì ne parliamo tranquillamente e io vi aspetto al prossimo video dagli ciao